Prima la paura, poi il lieto fine. La ragazza di 27 anni, scomparsa questa notte a Santa Maria dell'Arzilla, è stata ritrovata viva. Era adagiata a terra in mezzo ad un cannetto, supina in ipotermia, a qualche centinaio di metri dal bivio del trebbio di Candelara, in prossimità della strada provinciale 32. Dunque a due chilometri dall'auto, un'utilitaria Ford che aveva abbandonato nella notte. A ritrovarla sono stati vigili del fuoco, grazie anche ai loro cani cinofili. Nel frattempo, da questa mattina all'alba erano state mobilitate decine di uomini e un elicottero dei vigili del fuoco, arrivato da Arezzo. Le ricerche delle forze dell'ordine, assieme a quelle dei pompieri, sono proseguite senza sosta, fin quando intorno alle 14.30 la ragazza è stata ritrovata. Il motivo che l'ha spinta a finire in quel luogo è ancora da accertare, ma la giovane, essendo stata trovata in stato confusionale, è stata portata in ospedale.